Salve a tutti! Continuiamo il progetto della sorgente di segnale a corrente costante con l'analisi dello schematico che ho pensato di realizzare per riuscire a costruire questo dispositivo. Prime considerazioni importanti che possiamo fare, possiamo notare che questa parte di circuito altro non è che l'amplificatore operazionale personalizzato che è stato studiato nel video 29, mentre questa parte di circuito è il moltiplicatore di capacità che è stato studiato nel video 30. Quindi com'è che funziona questo circuito? Partendo dallo stadio di alimentazione, ovvero questa parte qui rappresentata col generatore di tensione e che poi in pratica sarà realizzato con un vecchio trasformatore di tipo lamellare, i due capi dell'avvolgimento secondario saranno connessi in questo modo. Questo qui altro non è che il rettificatore a tipologia di moltiplicatore di tensione. Infatti andandolo a collegare in questo modo abbiamo che questo nodo del circuito si troverà in questo caso a più 15 volt, perché il trasformatore che ho scelto ha una rettificata massima di picco di 15 volt, mentre quest'altro nodo del circuito si troverà a una tensione negativa di meno 15 volt, quindi in totale tra questi due nodi del circuito otterremo una differenza di tensione pari a 30 volt. In parallelo a questo rettificatore abbiamo la presenza di un secondo rettificatore della stessa tipologia del primo, quindi anche questo moltiplicatore di tensione, quindi stesso discorso. Questo nodo sarà più 15 volt rispetto a questa massa e quest'altro nodo sarà meno 15 volt rispetto a questa massa. In totale questi due nodi presenteranno una differenza di tensione di 30 volt. Dopo lo stadio di rettifica incontriamo il moltiplicatore di capacità. Nella fattispecie abbiamo il suo circuito in NPN per quanto riguarda la parte positiva, mentre incontriamo il circuito in PNP per quanto riguarda la parte negativa. A valle del moltiplicatore di capacità incontriamo questo partitore resistivo, dove ai capi di questa resistenza incontriamo un potenziometro il cui attraverso la sua variazione consente di variare la sua tensione al pin centrale. In pratica con questi valori scelti questa tensione può variare tra il valore di più 1 volt e meno 1 volt. Questa tensione arriverà in ingresso a questo amplificatore operazionale messo in modalità di integratore che andrà a comparare questo segnale con il segnale che riceve da quest'altro amplificatore operazionale. E il segnale ricevuto da questo amplificatore operazionale messo in modalità di amplificatore non invertende altro non è che l'amplificazione del segnale che viene rilevato sulla resistenza di shunt. Andiamo adesso ad esaminare quali sono i concetti più importanti che sono presenti su questo schematico. Partiamo dai potenziometri. Perché ho inserito nel circuito questi due potenziometri? Ovvero uno che va a regolare il guadagno di questo amplificatore e l'altro che fa variare la tensione fra più 1 volt e meno 1 volt? perché in questo modo riesco a settare la sensibilità della nostra sorgente di segnale a corrente costante. Ultima particolarità di questo circuito ma anche la più importante è spiegare il perché questo amplificatore è montato in modalità di integratore e non come semplice comparatore. In molti circuiti elettronici trovati online questo stadio è messo come comparatore ma questo è un errore. Un errore che abbiamo già incontrato negli scorsi progetti ovvero nel progetto per la costruzione dell'alimentatore da laboratorio in quanto se vi ricordate questo è un loop di corrente e l'altra volta avevamo avuto un bel problema per quanto riguarda la stabilità nei loop di corrente proprio perché come avevo già spiegato e ripeto questi loop sono davvero velocissimi e nel caso in cui non sia presente qui uno stadio di integratore quello che succede è che si potrebbe innescare in certe condizioni di carico una auto oscillazione di tutto il circuito quindi creerebbe un tipo di funzionamento altamente pericoloso per tutte le componenti e anche per i carichi messi a valle. Quindi quello che adesso andrò a fare sarà riportare questo circuito su una mille fori ho già qui un primo layout ovvero su due mille fori infatti serviranno due schedine di misure 5x7 centimetri sulla prima andrò a saldare tutta la parte superiore del circuito ovvero il primo stadio di rettificazione con l'amplificatore operazionale e i due transistor in modalità push pull mentre sulla seconda tutta la parte inferiore del circuito ovvero il secondo rettificatore con lo stadio di moltiplicatore di capacità e poi il potenziometro molto bene quindi adesso non mi resta che andare a saldare queste due schedine e poi le andrò già direttamente a montare nel case finale dopo la fase di debug e noi ci vediamo direttamente per il test finale del dispositivo. Molto bene per questo video è tutto alla prossima!